La buona riuscita del settimo trofeo Fratres Città di Anghiari e l'importante lavoro portato avanti ogni giorno dai donatori di sangue Fratres sono stati sottolineati da Angela Cimbolini, assessore del comune di Anghiari. Il gruppo donatori Fratres di Anghiari è una delle realtà più vive e più attive che abbiamo sia a livello di territorio sia a livello di provincia e coniugare quindi questa missione che i donatori portano avanti da 40 anni addirittura ci fa veramente orgogliosi e ci fa onore soprattutto oggi che riescono con lo sport a portare avanti anche un discorso di sensibilizzazione su valori che sono i valori sani della nostra società e vorrei ricordare appunto che oggi è un'occasione anche per fare prevenzione soprattutto per quanto riguarda i valori glicemici, pressori quindi invito la popolazione a usufruirne e quindi il mio ringraziamento va al presidente Carlo Reonardi e con lui a tutti coloro che si impegnano e dedicano parte del loro tempo per degli obiettivi così importanti e così alti. Grazie a tutti.